Oggi per estate con gusto ci troviamo al Bar Max in via Trinità a Sala Consilina, rosticceria, paninoteca e caffetteria. Incontriamo di nuovo Anna Maria, la proprietaria del Max Bar. Oggi che ricetta ci proponi? Oggi prepariamo la parmigiana di melenzane. Gli ingredienti per questa ricetta? Sono delle melenzane che noi abbiamo già impanato e fritto, poi ci sta della mozzarella di latte vaccino e del pomodoro che è stato già cotto per velocizzare un po' i tempi con un po' di olio, aglio e poi il semplice pomodoro. Ok, iniziamo con la preparazione. Cosa bisogna fare? Mettiamo prima del sugo nella teglia, poi facciamo un primo strato con le melenzane. E mettiamo un po' di sughetto. Mettiamo un po' di mozzarella e questo fino a che le melenzane finiscono, almeno tre strati, tre o quattro strati. A conclusione di tutti gli strati, questo va in forno per quanto tempo? È un 20 minuti a 180 gradi più o meno. E dopo 20 minuti Anna Maria tira fuori dal forno la parmigiana pronta. Questo è il piatto pronto, ma ora vediamo una porzione di questa parmigiana. E questa è la nostra parmigiana di melenzane. Cos'altro possono trovare i clienti al Max Bar? Allora, noi iniziamo la mattina con la caffetteria, dove per ogni caffè oppure cappuccino, qualsiasi consumazione, offriamo le nostre ciambelle. Fatte in casa, niente di congelato. E poi continuiamo con l'aperitivo? Iniziamo poi con gli aperitivi. C'è una collaboratrice esperta. E i nostri aperitivi dalle 12 fino alle 13.30 e poi tutte le sere dalle 18 in poi. E dopodiché diventa tavola calda? Sì, dalle 12 e mezza iniziamo con la tavola calda, lo sticceria tavola calda, dove ci sono i nostri piatti da gustare. Abbiamo di solito sempre due primi piatti, bianco e rosso, e in estate uno caldo e uno freddo. Adesso ci sono le insalate di riso, il couscous, poi abbiamo vari secondi, ci stanno i polpettoni, cioè non abbiamo mai la stessa cosa. Ogni giorno il nostro menù cambia. Per un'estate con gusto il Bar Max si trova a Via Trinità, vicino a Lidl, a Sala Consilina. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!